La paregite nel giro di ritorno ha condizionato l'ottimo andamento del nuovo affetto, visto nel giro di andata. La zona novantesimo fa male come la nuova feta perché se è vero che a Cesenatico non è andato in vigore alla massima espressione calcistica degli uomini di Achille Fabri, con maggior malizia in più e magari con qualche calcetto di troppo, la partita si poteva portare a casa. Avrebbe ricriminato i bacchie e non poco perché a giudicare anche dall'andamento del match gli uomini di Bartaccini partono forte quando Gabba Corta, figlio d'arte, alza la mira. Ma il pressing dei centrocampisti di casa si mostra efficace ed ecco che sul lato destro Quarta innesca la quarta, serve Mazzarini che da terra imita il terzino messicano inizio anni 2000, blanco, trattenendo il pallone in area di rigore. Sarebbe fallo, l'arbitro lascia proseguire con la sfera poi gettata in corne dalla retroguardia ospite. Più avanti arriverà il fischio del direttore di gara, in questi casi si dice meglio tardi che mai. Ancora lo scatenato Mazzarini reca scompiglio, pallone gettato al centro e preda di Quarta che cerca l'Eurogoal senza trovare fortuna. A quarto d'ora lo scambio Milzoni, Quarta porta la pallombella di Onofri, Semplini non si fa sorprendere. Il cesenatico continua a produrre, Quarta serve Magnani che da posizione di filata spara alle stelle. Ma al ventitresimo il nuovo filtro, più avvero a fondo, passa. La coppia Raffaelli-Bettini viene premiata quando Raffaelli disturba Angelini, il quale ripiega su Cialotti. Il terzino si addormenta permettendo a Raffaelli di scambiare con Bettini, traversone smorzato da Angelini con Dominiconi che atterra dentro l'area di rigore, proprio Raffaelli. Rigore netto, dagli 11 metri il capitano Rinaldi non sbaglia portando ad otto il proprio score di gol. In stagione il cesenatico da rimessa laterale tenta il pari, farà begoli di testa, appoggi involontariamente sui piedi Mazzarini che in girata alza sopra la traversa. In contropiede Nuova Fetia potrebbe far male l'asse Bettini-Raffaelli e segue uno scambio di cortesie. Tiri tu, tiro io, altrimenti mi offendo. Ed ecco che Dominiconi ringrazia intervenendo a salvare un quasi gol. Un altro figlio d'arte, Angelini, chiama la respinta di Bacher da calcio piazzato in portiere Semprini. Il finale di prima frazione è tutto di marca giallo-blu. Cupi scarica su farà begoli, centocampista ex di turno, avanza e deposita la sfera sui piedi di Gori che chiama Russo all'intervento distinto. Un minuto più tardi proprio Russo deve ripetersi. Cupi inesca Raffaelli, colpo di tacco all'indietro per la corrente Bettini che scarica il tiro della doppio addosso a quest'ultimo. Nella ripresa si ammirano solo calci piazzati. Iniziamo da questo di Angelini con Semprini chiamato alla presa. Altra punizione di Angelini, respinta questa volta dalla barriera, sui piedi del neoentrato Stefano Magnani che conclude a lato. L'altro Magnani invece da calcio piazzato oggetta la sfera direttamente in tribuna. Angelini è più preciso con Semprini che è costretto a respingere. Lo stesso Angelini a novantesimo getta la penultima chance sopra la traversa, ma al novantunesimo la frittata è fatta. Apertura per quarta e migliore dei suoi fa fuori a rapi e mette un piede in area mentre l'altro viene a sbattere contro quello del neoentrato Sebastiani. L'arbitro ben appostato decrita il penalty. Dagli 11 metri Semprini intuisce la traiettoria ma non riesce a negare a Magnani la sedicissima per l'istagione per l'1-1 finale che accontenta sì i padoni di casa ma non il nuovo affetto che da stasera vede di Morciano a una sola lunghezza e si intermette a tre e domenica si va in casa del bagno di Romagna.